buongiorno a tutti buongiorno a tutti al vostro nome sono qui davanti a una entrata tanto non sapete dove faccio questo video risposta a quelli che mi hanno scritto quel video sulla paypal ma paypal che fa si intitola il video qualche video fa un mese fa credo ancora oggi c'è chi pensa che io abbia fatto i miliardi non sa che cosa abbia fatto io quando fu il mese scorso sapete quanto tra virgolette mi è arrivato delle famose donazioni 2 euro e 90 centesimi in un mese è stata una di 2 euro e una di 90 centesimi non lo dico chiaramente non lo sapete mai mi conoscete lo dico semplicemente perché leggo sempre la storiellina del furbacchione di quello che fa la vita chissà come la fa io sono a milano venite a milano venite a milano io ho tutti i giorni alle mezze tutti i giorni poi c'è da considerare che c'è quello che c'è da giro lo sapete anche voi non lo nomino perché sennò i video lo sapete youtube italia youtube italia non paga milioni a me per ora non me l'ha mai pagato io vi dico che io riprendo soldi da youtube italia ogni 3 4 mesi perché devo superare i 70 euro la soglia prima di essere pagato quindi vi dico anche questo per farvi capire che io l'ultima volta è stato dopo 4 mesi che mi sono arrivati più di 70 euro e niente volevo dirvi questo lo so che è un video per certi aspetti è un video che non dovevo nemmeno fare io non volevo farlo però purtroppo a volte leggendo commenti insomma leggo delle cose davvero verosimili io capisco che dovete stare a casa e quindi non sapete cosa fare quindi sai cosa fa? scrivo qualche commento un po' a questo e almeno così lo prendo un po' in giro io lo so voi ragionate così non tutti veramente ma molti ragionano così siete a casa dovete stare a casa e quindi scrivete questi commenti privi di ogni significato tutto qua come vi ho detto anche l'ultimo mese 2 euro e 90 centesimi quindi non sto dicendo bugie se volete parlare di questo mese al momento mi è arrivato 15 euro ormai siamo a fine mese quindi come vedete uno da 10 uno da 5 come vedete è così non sto mentendo poi può fare un altro video quasi lo può anche subito farò un altro video specifico su quelli che dicono parlano scrivono l'ho fatto ti ho mandato di qua e di là e poi io non ho mai niente sarà magia che è magia cinese anche questa vabbè vi faccio vedere vabbè il mio abbigliamento aveva la maglietta un po' sulcio che è sudata e poi andiamo un po' sulla quadra con la tuta sempre questi ce la toco sempre questi qua questi ciavanti che mi piacciono a casino però riesco a trovare come abbiamo fatto già i video vabbè comunque non se vuoi dire che a me non mi arriva mai quasi nulla volevo dirvelo lo dica a chi crede che io sia sul furbacchione che faccia al furbo che magari ho tutti i giorni a cena fuori non so che cosa quale idea vi siete messo in testa ma non è così state a casa ma non scrivete queste cose perché insomma non è tanto carino ciao